Vuoi vedere Armaduc qua, Avis, Casalecchio? No, non siamo alti come Vermo, però siamo alti... Quasi, come il nostro. Come il nostro. Dopo c'è il bivio, si può andare più su. Sì, allora tu vai più su, la fai 15 volte, si arriva fino a San Luca, accendi il cero.